Musica Musica Grazie a tutti. 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 Puttalo sotto al piede. No, no, hai uno allo sotto i piedi. Oh, bombo di scena. Applausi. Niente da fare anche per loro. Ci avete fatto sognare, bravissimi. Vieno, 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 vieno. E' un po' di s answero a salire fino in cima. Vivi, tutti sono le caratterede, da quando sembrava lo cosa più facile di questo mondo. quindi Fabio non è impossibile dobbiamo migliorare io credo che questo Tammaro, correggimi se sbaglio sia frutto di anni e anni di allenamenti non penso che sia improvvisato togli il grasso addirittura preparate i telefonini addirittura applausi tutta la piazza applausi 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 applausi